Duagnolotti, un po' di pappardella al sud dell'Ebre, da Staggino di Matriciana, poi ho fatto... 2015 personaggi con Max Giusti apre la stagione al Teatro Sanzio di Urbino. Venerdì 31 ottobre alle ore 21, il comico di origini marchigiane salirà infatti sul palcoscenico del Teatro Sanzio per far parlare senza filtri i personaggi che lo hanno reso famoso. Da Claudio Lotito ad Albano, passando per Cristiano Malgioglio, fino ad arrivare alle ultime creazioni, il prete detective Terence Hildon Matteo e il cantante sensibile Patrizio Cantamore. Trent'anni di carriera, ripercorsi dal vivo, Max Giusti sarà accompagnato dalla Super Max Band e dalla splendida voce di Sarah Jane in uno spettacolo leggero e comico che non disdegna uno sguardo verso la situazione politica dell'Italia di oggi, utilizzando però l'ironia brillante che da sempre contraddistingue Max Giusti. L'appuntamento è per venerdì 31 ottobre alle ore 21 a Urbino al Teatro Sanzio con 2015 personaggi e l'irresistibile Max Giusti.